Cleto Corposanto, docente di sociologia all'Università di Catanzaro, presenta In viaggio, una vita da flannare Il viaggio è innanzitutto un'occasione di pensiero, un atto di meditazione prima che dell'azione. Nel pensiero del viaggio confluiscono dati conoscitivi, motivazionali, razionali ed emotivi, cosicché il viaggio è una vera e propria prova a cui ci sottoponiamo per molteplici differenti ragioni. Questo quello a cui pensavo quando con un pizzico di amarezza mi accingevo a lasciare con un volo il Sudafrica, un paese bellissimo, undici lingue ufficiali corrispondenti alle varie etnie che lo popolano, tutte riportate nelle targhe dei palazzi governativi, lo Zulu, lo Chosa, l'Africans le più diffuse, oltre all'inglese naturalmente, la lingua franca. Un paese che mi ha regalato anche la possibilità di visitare una delle sue enclavi, il Regno dell'Esoto, sospeso fra terra e cielo. Ma la partenza è uno di quei momenti magici in cui ci si ritrova a riflettere su quello che si sta facendo, ci si rende conto che esistono mille alternative, fra le quali se ne sta scegliendo una in particolare, imboccando quella strada, salendo su quella nave o prendendo proprio quell'aereo. E la mia scelta era fatta. Un aereo mi avrebbe portato da Darban, via Johannesburg, nello Zimbabwe, più precisamente all'aeroporto che ha per sigla internazionale VFA, il Victoria Falls Airport. E allora via, si parte per lo Zimbabwe. Le cascate Victoria sono uno spettacolo imperdibile, ricche di una storia affascinante. I primi abitanti dell'area limitrofa, le cascate, furono quasi certamente i Khoisan, un popolo di cacciatori, raccoglitori. Si capisce anche perché lo chiamarono letteralmente quel posto il fumo che tuona. Appena atterrati lungo la strada che in taxi ci porta in albergo, si comincia a vedere in lontananza l'effetto della grande massa di acqua, che cadendo provoca la caratteristica nebbia umida verso il cielo, accompagnata da un rumore di sottofondo che davvero assomiglia a quello di un tuono in lontananza. Il primo europeo a visitare le cascate fu David Livingstone durante il suo viaggio, durato circa quattro anni dal 1852 al 1856, per percorrere il fiume Zambesi fino alla foce. Livingstone arrivò nella zona delle cascate il 17 novembre del 1855. Raggiunse anche la piccola isola che si trova in mezzo al fiume, subito prima del salto che divide due delle cateratte delle cascate e che oggi si chiama appunto Isola di Livingstone. Successivamente alla scoperta, Livingstone tornò in zona qualche anno dopo, nel 1860, assieme a John Kirk, per svolgere studi più approfonditi. Ma su questo grande esploratore torneremo più avanti. Le cascate Vittoria si trovano in una zona veramente singolare. Oltre ad appartenere a due diverse nazioni, lo Zimbabue appunto e lo Zambia, in realtà sono al centro di un incredibile quadrivio geografico che vede incrociare lì anche altre due nazioni, il Botswana e la Namibia. È insomma un posto davvero magico, un posto di confine e come in tutti i posti di confine le cose si mescolano, le culture si intrecciano, è il trionfo delle cose intercambiabili che dipendono le une dalle altre. Vivendo e conoscendo gente, impariamo subito che nessuno dice di sé che è dello Zimbabue, così come in precedenza non diceva di essere della Rodese del Sud o Meridionale, come si è chiamata questa nazione, fino agli anni Ottanta. Qui per lo più si è Shona, l'antica tribù che da sempre abita questa terra, Ondebele, la tribù che si stabilì verso il 1840, proveniente proprio da Sud. Oggi nell'attuale Zimbabue sono ufficiali ben 16 lingue differenti, compreso l'inglese e alcuni dialetti di matrice Koisan. Le cascate sono comunque uno spettacolo che da solo merita una visita in questo paese, un salto meraviglioso che si può ammirare per intero da una prospettiva frontale che ne esalta la magnificenza. Mi rapiscono per una giornata intera, passata a passeggiare nella vasta zona che la circonda, salti immensi, scroscì, rivolì e rocce di una bellezza sconcertante. E poi la gente, gente meravigliosa, quella dello Zimbabue, gente fiera delle proprie radici e di grande ospitalità. Ma come detto ci troviamo in un quadrivio di grande interesse e non ci facciamo sfuggire l'occasione per passare da una nazione all'altra attraversando il confine a piedi, una cosa insomma abbastanza insolita. Il lunghissimo ponte sullo Zambesi, con il rumore onnipresente delle cascate, divide infatti proprio lo Zimbabue dallo Zambia, con tanto di cartello in bella vista, you are now entering Zambia. A metà ponte, oltre il cartello, la possibilità di lanciarsi nel vuoto, verso le impetuose acque dello Zambesi, assicurate da una corda, un base jumping del quale facciamo volentieri a meno. E alla fine della camminata sul ponte, il posto di dogana dello Zambia. Le dogane africane meriterebbero una storia a sé. Il tempo magicamente si ferma, scorre in un'altra dimensione. Le cose da fare sono tante e a volte sembrano difficili. Le parole sono un po' così, ma poi tutto si sistema. Siamo nello Zambia, finalmente, e ci siamo arrivati a piedi. Un taxi e si va nella prima città, poco distante dal confine. Come si chiama? Indovinate un po', si chiama Livingstone. E una volta, nello Zambia, era anche la capitale. Oggi è una città di circa 150.000 abitanti, che ha dedicato un piccolo museo coloniale al grande esploratore di origini scozzesi, che all'Africa ha dedicato la sua vita, tanto da sparire per alcuni anni nel suo perigrinare in terre sconosciute, prima di essere ritrovato da un giornalista appositamente inviato sulle sue tracce. Si trattava di Henry Morton Stanley, gallese di nascita e statunitense di adozione, che il 10 novembre del 1871, alla zona nel Tanganyika, alla vista di un uomo bianco, in questa zona molto isolata nei pressi del lago, pronunciò la celebre frase «Dr. Livingstone, I presume». Erano gli unici due bianchi nel raggio di centinaia di chilometri. Il rientro nello Zimbabwe da Livingstone, Zambia, avviene sempre ripercorrendo il ponte sul fiume Zambesi, ma dalla zona di Victoria Falls, come detto, si può sconfinare spesso e volentieri, e allora non perdiamo l'occasione di attraversare un'altra frontiera, questa volta quella con il Botswana. E anche qui, alla Dogana, il tempo rallenta. La destinazione è il meraviglioso parco naturale di Ciobe, una vastissima area piena di animali, una zona in particolare ricca di elefanti, che qui la fanno da padrone. Ecco l'Africa vera, ecco la terra rossa e polverosa sulla quale si incrociano un numero di animali elevatissimo, di tutte le taglie e di tutte le specie. Così come verde, verdissimo, appare questa lingua di terra che appartiene invece alla Namibia, che a ovest invece è prevalentemente desertica, ma che qui, in questa magica congiunzione alla quarta potenza, regala angoli di verde inenarrabili. Ci addentriamo in questa quarta nazione nel raggio di pochi chilometri per capire che i confini sono un fatto meramente amministrativo a volte. Qui, in quest'area, attorno a quella meraviglia rappresentata dalle cascate Victoria, popoli di antiche tribù, hanno raggiunto un equilibrio di convivenza che non può che farci riflettere. E la loro serenità, assieme allo spettacolo meraviglioso della natura, certamente contribuisce a rafforzare quel mito del mal d'Africa che fa sì che una volta visitata l'Africa resti per sempre nel cuore dei viaggiatori. Questo è un podcast indipendente, prodotto in collaborazione con una ristrettissima cerchia di amici.